Capire fino in fondo le ragioni di un suicidio è uno sforzo probabilmente impossibile, eppure quando tanti suicidi si susseguono, come sta accadendo nelle nostre carceri, il tentativo di comprendere le ragioni che ci sono dietro questa incredibile sequenza è un dovere per uno Stato democratico e per chi come me ricopre una funzione pubblica, ricopre un ufficio pubblico, ed è la ragione per la quale sono andato a visitare il carcere di Verona venerdì scorso, un carcere nel quale ci sono stati cinque suicidi negli ultimi mesi, a partire da novembre del 2023, e però anche dopo una visita quello sforzo di comprensione resta davvero molto complicato, e oggi vorrei provare a condividere con voi i ragionamenti che ho fatto dopo la visita a Verona, ed è dunque di questo che voglio parlarvi oggi, che è il 13 febbraio 2024, io sono Ivan Scalfarotto, questa è la versione di Ivan, e noi andiamo a incominciare. Io sono Ivan Scalfarotto e questa è la versione di Ivan, una storia al giorno, dal lunedì al venerdì, rigorosamente, dal mio punto di vista. Dall'inizio dell'anno 16 persone si sono suicidate in carcere, l'ultimo proprio ieri a Terni, e questo mi fa tornare alla visita che ho fatto al carcere di Verona venerdì scorso, di cui vi ho parlato ampiamente nell'episodio di ieri, perché la ragione per la quale ho deciso di andare a visitare proprio il carcere di Verona è che in quella struttura si sono uccise cinque persone dal novembre del 2023, e quindi mi sono chiesto, ma c'è qualcosa che proprio a Verona crea le condizioni perché questa tragedia si ripeta in modo così ripetitivo, così ravvicinato nel tempo? E devo dire che andando a visitare poi il carcere di Verona mi sono detto, dopo la visita, che in realtà la mia domanda era sbagliata, era una domanda velleitaria, perché ogni suicidio è fondamentalmente una storia a sé, è una scelta così personale, così individuale, così determinata da condizioni irripetibili che non si può paragonare un suicidio a un altro e men che mai cercare una sorta di minimo comune denominatore tra storie che appunto sono diversissime e assolutamente irripetibili. Però c'è da dire che è chiaro che il fatto di essere in un carcere aumenta le possibilità, le probabilità che una persona possa sviluppare una depressione o possa comunque trovarsi nella situazione di decidere di adottare una scelta così drammatica. Non dobbiamo stupirci se nelle carceri il numero dei suicidi è multiplo rispetto a quello del mondo esterno, perché le condizioni di vita, la pressione che si vive in quelle strutture è ovviamente molto diversa da quella che viviamo noi che siamo nel mondo esterno. E guardate, non è soltanto, io credo, una questione legata alla libertà di potersi spostare, cioè il fatto di non vivere in un luogo chiuso dove si è costretti a stare in una cella. C'è un ulteriore elemento, io credo, che quando si è detenuti appunto non si perde soltanto la propria mobilità, ma si perde la possibilità di autodeterminarsi. Tante scelte che noi facciamo quotidianamente in modo libero, vogliamo fare un acquisto, vogliamo parlare al telefono con qualcuno, sono cose base, cose semplicissime della nostra vita quotidiana. In carcere non possono essere fatte, queste piccole scelte della vita devono essere condivise con l'amministrazione penitenziaria, bisogna fare una domanda, bisogna fare una richiesta, bisogna che questa richiesta sia approvata. E poi ci sono delle libertà che si perdono completamente, come la libertà alla propria affettività, incontrare le persone a cui si vuole bene. Ovviamente c'è il grandissimo tema tabù della sessualità, ma più in generale si è costretti a condividere i propri spazi con persone che non si è scelte, persone che magari nemmeno si conoscono, che sono capitate casualmente, ma non abbiamo la possibilità di vivere i nostri affetti, per esempio. E quindi c'è una situazione del tutto originale, del tutto singolare, che sicuramente comporta una pressione sulle persone che può condurre a quella scelta drammatica. E poi ovviamente ci sono le carenze di quel sistema. Io ieri vi parlavo delle carenze strutturali, cioè del fatto che si vive in in luoghi sovraffollati, in luoghi la cui igiene, la cui salubrità lascia desiderare. Dicevo della mancanza dell'acqua calda, dicevo della muffa sui muri, dell'umidità, dicevo evidentemente della mancanza di privacy che deriva dal fatto di dover fare sempre la doccia con altre persone. Insomma non è un luogo piacevole nel quale stare. Ed è vero che il carcere nel senso comune deve avere una sua afflittività. Io sono certo che qualcuno che mi sentirà parlare, soprattutto da certi settori dell'opinione pubblica, mi dirà ma questo scalfarotto che cosa vuole? Mica una prigione e il grand hotel. E certamente questo lo capisco anch'io che non sia il grand hotel e capisco che una sua afflittività appunto, come dicevo, il carcere deve averla. Eppure io penso che sia sempre molto importante chiarire una cosa e quella cosa è che la pena che viene inflitta a chi ha commesso un reato e la pena della reclusione, cioè la pena della perdita della libertà personale, ma la perdita della libertà non significa che si debba perdere la propria dignità. E infatti noi sappiamo che la Costituzione, sappiamo che i trattati internazionali ai quali aderiamo dicono che le pene non devono essere mai disumane o degradanti, devono essere sempre pene che rispettino la dignità del detenuto e purtroppo la vita in quelle carceri non sempre lo fa e questo è molto evidente. Poi c'è una questione anche di prospettive, nel senso che, come faceva notare Paola Severino, la ex ministra della giustizia, in un bellissimo articolo scritto qualche giorno fa sulla stampa, ci sono persone che si suicidano in carcere poco prima di uscire, proprio quando la pena sta per terminare e questo sembra, come dire, una sorta di beffa, no? Ci chiediamo ma perché se ti mancavano tre mesi o quattro mesi all'uscita dal carcere perché ti sei tolto la vita? E giustamente Severino faceva notare che molto spesso l'uscita dal carcere per queste persone rappresenta un dramma perché all'esterno non li aspetta nulla, non li aspetta magari una famiglia, un tessuto sociale pronto a riaccoglierli, non li aspetta un lavoro perché appunto nella maggior parte dei casi, tranne che in alcune felici eccezioni, la nostra struttura carceraria non è una struttura che prepara al lavoro e che prepara a un reinserimento nella vita sociale e dunque l'idea di uscire dal carcere da una struttura che certo costringe ma che dall'altro, da un altro punto di vista è una sorta di coperta di linus, no, è una sorta di elemento nel quale ti muovi, nel quale non ti devi preoccupare di niente, ecco riprendere quella responsabilità di se stessi per taluni è un peso insopportabile e poi c'è tutto il grande tema del disagio, della malattia psichiatrica, della tossicodipendenza per cui ci sono anche persone che si suicidano per ragioni legate a queste sofferenze e questo mi fa dire appunto ancora una volta quello che penso, cioè che le nostre carceri sono diventate una sorta di luogo in cui tutte le nostre marginalità vengono raccolte perché in presenza, anzi in assenza di un sistema di assistenza sociale che è in grado di farsene carico alla fine si finisce quasi col diventare dei predestinati alla galera quando si viene da luoghi o da pezzi, da porzioni della società particolarmente in sofferenza. Ma sono cose che dovremmo risolvere, cose alle quali dovremmo mettere mano perché questa situazione è una situazione appunto che l'Italia che è un paese dalla altissima cultura giuridica e dalla grande civiltà io credo non possa più permettersi e mi fermo qui e vi do appuntamento domani. Avete ascoltato la versione di Ivan, un podcast di Ivan Scalfarotto ispirato dall'omonimo libro edito dalla nave di Teseo.